Una penalità, 12 in partenza, Buzzi Fabrizio con Jade, back seal agility team, a seguire 49, 71, 299 Percali, Paolo in partenza Paolo, ok Due penalità per questo fenomeno Buzzi Fabrizio con Jade, back seal agility team, a seguire 50, 80, 11 Ho pronto questo binomio giovanissimo del back seal agility team, partiti Ecco subito il richiamo, ingresso in slalom, velocissimo, guardate la velocità di questo cane Ah, peccato le stecche, richiamo subito Ok, torniamo Tubo, parte centrale del percorso Velocissimo Guardate come gira, salta e gira già Ultimo ostacolo, percorso che termina con Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.